Mentre eravo in volo con questo mio istruttore appunto, lui invece di aiutarmi, di coadiuarmi nelle manovre ha preso il suo cellulare personale e ha fatto dei video. Faceva delle riprese video dove riprendeva a me le mie prestazioni. Quello che provo quando volo è sicuramente una forte passione, un forte amore, è qualcosa di indescrivibile, non credo che sia paragonabile a nulla. Poi abitando a Guidonia, città dell'aria, questo ha sicuramente influito, vedere gli aerei che mi passano sulla testa tutti i giorni. Mi portavano alla scuola di volo appunto per alimentare questa mia passione, che poi si è concretizzata in un piccolo brevetto di volo da diporto sportivo che ho conseguito da 18 anni, quindi addirittura prima della patente ho portato prima l'aereo e poi la macchina. E ho provato questi concorsi appunto da quando potevo, quindi da 18 anni per l'Accademia Aeronautica, finché non ho vinto appunto lo scorso anno il 125esimo OPC dopo tantissimi tentativi. Giulia Labbianca è un'ex allieva pilota dell'aeronautica militare ed ha denunciato un atto di nonnismo. L'episodio, secondo il suo racconto, sarebbe avvenuto quasi un anno fa presso il settantesimo stormo di Latina. Mentre eravo in volo con questo mio istruttore appunto, lui invece di aiutarmi, di coadiuarmi nelle manovre, ha preso il suo cellulare personale e ha fatto dei video. Faceva delle riprese video e dove riprendeva a me le mie prestazioni. Dopodiché, quando siamo scesi a terra, mentre io posavo il paracadute casco nella sala equipaggiamenti, esco fuori dalla porta e vedo appunto lui che mostrava questo video a vari superiori, erano circa 6-7 persone. E vedevo che ridevano, scherzavano, divertiti sulla cosa, affinché uno di loro si accorge che io ero lì. Viene appunto intimato a togliere il video perché c'ero io. C'ero io lì davanti che stavo vedendo e avevo ben capito che stesse deridendo di me, stesse mostrando questo. Giulia decide di denunciare subito quanto le era accaduto, ma l'esito della sua azione non è quello desiderato. Questa mia denuncia non è stata presa in considerazione, è stata fatta passare come qualcosa di poco conto, come una bravata, è stato minimizzato questo atteggiamento. E sono seguite poi le mie dimissioni che hanno un'iter abbastanza lungo perché diciamo che devono passare prima per le scuole a Bari, poi per l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e poi per Roma per il personale militare. E c'è stato anche un fatto che ha fatto pensare che questa mia fine fosse già scritta, cioè il fatto che mentre a Bari ci dicevano che stavano ancora visionando le carte, in Accademia Aeronautica, che sarebbe stato poi il passaggio successivo, invece ci dicono già che avrebbero continuato con l'espulsione, con la motivazione della scarsa attitudine al pilotaggio. Sono stata mandata via dopo la denuncia e non posso ovviamente definire il fatto che ci sia una conseguenza, però quello che è successo appunto è questo. Dopo l'espulsione Giulia non si arrende e promette battaglia con ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Abbiamo fatto una domanda che nessuno ci ha risposto. Se rientra nella fase istruttoria effettuare da un istruttore un video in volo. E su questa domanda nessuno ha risposto. Abbiamo chiesto anche al Comando Carabinieri. Il Comando Carabinieri mi ha risposto dicendo che loro hanno una normativa dove vieta assolutamente l'uso del cellulare. Questo è il nodo, non tanto per mia figlia, ma per quello che è accaduto, che potrebbe accadere anche ad altre ragazze, ma anche ad altri ragazzi, perché è una cosa un po' anomala quello che è accaduto. Abbiamo chiesto all'aeronautica militare di replicare alle parole di Giulia e ci hanno risposto con una nota che vi mostriamo. Però mi chiedo perché questo atteggiamento solamente nei miei confronti. E la domanda a cui nessuno riesce a darci risposta è se questo video si poteva fare. Io posso anche interrompere qui la mia battaglia se qualcuno mi dice era lecito fare questo video, era lecito farlo vedere, perché nessuno mi dice questa cosa. Grazie. Grazie. Grazie.